Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, siamo con la mappa, c'erano i due a quindici, buoni pop corn Moltissimo Moltissimo Vedicimene uno qua, dai, tre, due, uno Ok Ma perché sto andando di qua, io non mi ricordo del chest root Vai a nord-est, c'è la spada in pietra nella chest Ma io sono a sud-est, sto canando tutto Non so perché sto andando di qua, cazzo Vabbè, tanto, boh, l'altra volta erano andando di qua, l'avevo vinta, però Ah, ma ecco perché, perché questo qua è una t2 Ok, ora mi ricordavo, ora mi ricordavo, cosa? Corconda, corcondanza Dio, concordanza dei tempi verbali, perfetta Qua dovrebbe esserci una t1 E la, eccoli Molto bene, anche i piedi che mi servono E un, ah, era Cosa, si sente leggermente No, peccato Scusami, non volevo far te lo sentire Non riesco a saltare, quanto l'audio c'era, non riesco a saltare Bene Mi gratta il naso Mi gratta Mi gratta, mi gratta, mi gratta Eh, sì, che ne sai che stavo parlando a una persona Che qua vicino a me Che lì Che lì, 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 e stavo facendo Ok, io mi metto in un angolino della mappa ora Un'affermazione E mangio pop corn Oh, cazzo, sta arrivando con l'iron Eh, porca merda Dove sei? Con i reattori E sono... Morto Mi metto in un angolino della mappa e mangio pop corn Combatti, minchia Ah, ma perché non c'ha l'arma Oddio Bravi, cioè complimenti Due full pelle che Non è che vanno in due su un full ferro Che sono io Ci vanno un po' a caso Lì, lì, lì Ok Eh, chiaramente poi l'ho achillato E ora ti vengo a achillare la te Ti bravo, mai ti dia C'è esplit Che sei più bello Ora giro Ti devi farmi l'acciarino Guarda cosa Allora vai, adesso a sinistra Beh, dritto ovviamente Cristo Dai Ne ho mangiato già Mezzo chilo Oh, la madonna Ma tu moris Oddio Non so neanche se ho l'arco Nell'inventa Continua a girarsi E a darmi frecciate Ma in realtà Non mi sta togliendo un cazzo Cosa sta Non le carica No Cosa Si è bloccato il personaggio Gesù Intanto non ti lascio andare Non so se Se l'hai capito Cioè Non riesco a prendere Sono uno stupido Sono sbagliato I possibili scorciatoi I possibili scorciatoi Ah, non so parlare Cosa Si è girato Madonna Muori Non muori mai Si E poi avrà recuperato Tutto ormai Ma non si gira Madonna Affrontami Io non ti lascio stare Non è che Non ti lascio andare Scappa sempre più veloce Si Dai Non riesco a prenderlo E si gira E mi prende con la freccia E mi toglie un cuore Eh, non è tanto il cuore Però è il punch Eh, si Ma si ferma Training for cam Mi sa che Tutto il turco Erdogan Oh, incredibile Ora mi killa Madonna, muori Oddio Un cazzo di parto C'è uno che si chiama Berlusconi Con zero su 33 Cosa? Uno che si chiama Obama Con zero su... Un parto cesario, madonna, è stato Non c'è Oddio Oddio Veramente, madonna Ok, ora mi sento meglio Aver killato sto Turco C'è uno di là Ti vengo a prendere Sei un leone Coraggio di un leone Hai il coraggio di un leone E come ti vengo a prendere Uh, e cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma cosa? Che nome è? Sta gente qua che non so neanche Come si tiene mano a spacca Vabbè E però si deve mettere I nickname, capito? Cioè Oppure tipo quello Ti ezzo e poi piangi Che avrà due su 404 Ma zanna, cara E la sua raccomandazione era Tuo madre Lo tuo padre Ti ezzo e poi piangi Cioè No, no Ti ezzo poi piangi Non ti ezzo e poi piangi Senza neanche concordanza È la seconda volta In questo video Che dico concordanza La devo smettere Ci sono due tizi Che è vicino alla grave Dove c'è la spada in pietra Ci stanno combattendo No Ah, e sì E stanno andando Verso lo spawn Io ci andare pure Verso lo spawn Però non so dov'è Cazzo Mi sa che è di qua Spero Boh Di qua forse Allora io Ero tipo a sud No, non lo so Non mi ricordo Ok No No, dovrebbe essere Dovrebbe essere Cazzo Non mi ricordo Cernobil come mappa Mamma mia Di qua Di qua Di qua Ok Uno sta morendo Aspetta Io sto arrivando Allo spawn Ma mi serve Per fare la spada Inferno No, non è qua lo spawn Gesù Ho fatto Ho fatto il giro Però Comunque di qua Sono stupido Potevo andarci subito Ah, no È di là Ok Perché c'è la Scritta Cernobil Di qua Dai, dai Andiamo a farci Sta spada Inferno Gesù Sono lo spawn No Sono lo spawn Verso nord Dove c'è la centrale Dove c'è la centrale Dove c'è la centrale Sì, sì Posso farmi frecce Mamma mia Quante ne posso fare Tra l'altro Ok Ne ho 30 Allora Ah, mi ricordo che All'inizio Quando Ero ancora SP Cioè Prima del 2012 Praticamente Cercavo Tutorial Come Su come Aprire L'inventare Il minecraft Perché non so Che fosse impostato Sulla E Sì Vai, sono quelli Sono quelli Grandissimo Pekajka Cosa Ha preso me Dio bono Ecco Perché li divisi Di aspettare Che si killassero Eh, ma infatti Stavo aspettando Che si killassero Riezzo Poi piangete E magari Ti aprono Vai No, 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 no Non dai Eh, tra i boschi È difficile Prendere le cose Con le frecce Però non è difficile Stuprare i bambini Ed è per quello Che è bello Brutta merda Oh merda Ok C'è una gapple su Ah, e pekkajka Sta inseguendo Blocker 226 Blocker 226 Lagga come la madonna Possiamo dire Che è una partita Normale Madonna laggante Qui non ci sono cheater A quanto sembra Si sta tutti bene insieme Si sta tutti bene insieme Si fa una partita di cortesia Cosa? 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 Allora Si Blocker ha 3 tacchi Ce ne ho 4 però Dash ping 110 143 143 Perché è così alto? Non lo so Di solito faccio 100 Vabbè Non ho Attento a sinistra Ehi la Professoroni Cosa? Mi sta chiedendo team Ok team 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 Tamama 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 Si si team team Poi ti chiedo come non so cosa Edgames team Mi parto in ritardo le frecce Sono un 47 Guarda quanto lagga Sì ma Pure io Non sto scherzando Pure io non scherzo A laggare Addirittura ha fatto un 360 Per evitare le frecce Dai andatevi contro Che ero raffinato Con uno schifo Laggo Non so perché Mi stanno partendo Le frecce in ritardo Ok il server Sì Vai 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 Guarda lo sta aprendo Perché non riesce a colpire Dato che sta laggando Invece blocker Lo riesce a colpire Io vado al centro Tipo Brisa Island Esatto No blocker Non venire da me Stronzo Eh ma quello è possibile Che si prenda i fulmini Esatto Guarda che sto anche laggando Non so per quale motivo Blocker non Non scherza come laggo È impavido Vuole proprio farti vincere Vai approfitta Un cd Un cd per casca Vedi che sei frocio Vacci di spada Madonna Avranno in due Tre cuori Guarda che Eh mi dispiace Lagga lagga Madonna Sto laggando come lo schifo Veramente Ok allora Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.